Linea Lecco torna inutile. Approvato il consuntivo 2017 dell'azienda di trasporto lecchese su gomma, che segna un attivo di ben 26.000 euro, nonostante gli ingenti investimenti che hanno riguardato tutti i comparti aziendali. Circa un milione di euro le risorse destinate soprattutto al trasporto pubblico urbano, vera e propria mission della società interamente partecipata dal comune di Lecco, ma anche all'attività collaterale e in crescita di noleggio. Fra i nuovi clienti figurano ITB e comune di Ello, alla manutenzione della sede aziendale, con ammodernamento di uffici e officina, alla formazione del personale, alla messa a norma e al potenziamento degli impianti dei parcheggi, tramite la sostituzione dei parcometri di vecchia generazione con degli apparecchi in grado di garantire il pagamento con carta, all'introduzione della fibra ottica nelle aree con impianti a sbarre e casse automatiche, sistema schidata, e alla prosecuzione dell'oneroso oltre 200 mila euro servizio di vigilanza. Proprio in virtù della vocazione societaria per il trasporto pubblico locale, spiega Linee Lecco, 530 mila euro hanno consentito l'acquisto di due nuovi autobus da gran turismo di ultima generazione, che riservano un'attenzione particolare non solo al comfort ma anche alla sicurezza, mentre ulteriori 230 mila euro sono stati spesi per incorporare nel parco automezzi un ulteriore bus Euro 6. Sono tre gli elementi che garantiscono a questa azienda di mettere a segno obiettivi sempre più ambiziosi, sottolinea l'amministratore unico di Linee Lecco, Mauro Frigerio, la condivisione di una politica aziendale basata sui investimenti e sulle valorizzazioni da parte del sindaco di Lecco, il personale dipendente che affronta i cambiamenti con atteggiamento positivo, vivendoli come opportunità di miglioramento, e l'esperienza e la capacità di un direttore, come Salvatore Cappello, in grado di amalgamare e declinare le politiche aziendali con e all'interno della macchina organizzativa. Un ulteriore traguardo, del quale vado particolarmente fiero, dice Frigerio, riguarda quanto ottenuto sullo fronte del personale, grazie alla sottoscrizione di un accordo aziendale, un contratto di secondo livello. A questo proposito, a nota però il numero uno della società lecchese, mi ha rammaricato la posizione intransigente e a mio avviso incomprensibile della CGL, la sola sigla sindacale che ha rifiutato di firmare il documento. L'intenzione per il 2018 è quella di proseguire nel solco del 2017, con una politica degli investimenti per la quale vogliamo impiegare 1.400.000 euro per raggiungere risultati e standard sempre più alti e competitivi. Previsto l'acquisto di quattro nuovi autobus di linea e due autobus da noleggio e la realizzazione del progetto di biglietteria elettronica. Ma Linea Lecco potrebbe presto allargare ulteriormente gli orizzonti verso nuove attività, come il supporto alla gestione delle modifiche alla viabilità e al decoro urbano.